Raggiungi B per parlare con Bill, raggiungi P per parlare con Mr Perso. La pronuncia dei nomi, ragazzi, abbiate pazienza, valgola che è. Salve. Che fate? Vabbè, io esco. Abbiamo due missioni. Una è questa. Amici di lunga data. C'è strontza. 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 Quanto alcuni di loro. As far as I can tell, the only fools out here are us and them. They must be this way. You good, Ditch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I've got your back. I learned a long time ago that you hit Colm O'Driscoll. Wait for him, and people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest one way or another. It will be. Some things I can't forgive, others I can't forget. What he did to Hannibal, I can't do neither. You killed his brother, Ditch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this will happen. Damn right, boss. Let's see what's going on here. Let's go over here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. This fight will still go for the long time. yes, yes. Anyway, we're all here. We're here. Andiamo qui! Allora, ragazzi, questo è tutto. Ci siamo pronti? Pronti, Dutch. Bene. Ora, signor Morgan e noi, andiamo qui un po' e vedere se non possiamo capire la scena del camp. Mr. Williamson, Mr. Bell. Voi due prendete una posizione scena fuori del camp. Mr. Summers, Mr. Escuela. Voi due, guardate la posizione qui. Andiamo! Cosa facciamo? Andiamo a piedi da qui. Andiamo a piedi. Ok. Ma io volevo andare a cavallo, però va bene. Ah, ma è qui. Andiamo a piedi. Andiamo a piedi. andiamo andiamo si le armi non incrociate la sette prima di smontare la capalla non saranno disponibili io a prendergli la pistola la pistola e il fucile asunto Certo, c'è abbastanza di questi bambini che si trattano come si trattano. Ora, vieni! è stupido qui, attacchi Con calma Meglio andare di fucile Ah così Lo fai fuori tu a questo? Ma ci penso io Cazzo ma non così Vabbè dai Ci hanno beccato subito In testa Ah cappello Bella Bella così Ci hanno sgammati subito ragazzi Vabbè Infatti dovevamo ammazzare Quindi BAMBALA Che fai? Di qua mi sto Ricarica Bella Cazzo sbagliottato Morti? Tutti? Oh Fai Sto in No Eh ragazzi Non me lo ricordavo così Tosto eh Che poi Che poi Funko Intento sbagliare il tasto Coglione Sto giocando ad altri giochi Con molta stiera ragazzi BAMBALA Mordi Occhio Sono impossibile che lo mancà guarda cazzo guarda lì il bastardo bella bella dai dai fanco guardate quanto cazzo siamo cattivi sono cattivissimi sono morti tutti e che cazzo saccheggiamo un po' di cadavro dai merda cazzo 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 ne arrivano altri perca miseria dammi da caccia fuori l'arma cazzo 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 bella bella manca uno dove cazzo fanco lo stronzo no ce n'è un altro morto morto che adesso vado un attimo un attimo che vado Questa. Fagioli. Sigaro. Gallette. Brandy. Brandy, Brandy, Brandy. Medicina. E annas. C'è anche altra roba. Ah, tabacco da masticare, ok. C'è altro? C'è. Questo sembra bene. Cosa pensi, Bill? C'è bene. C'è bene. C'è bene. C'è tutto? Penso, boss. C'è questo. È perfetto. C'è qualcosa di più di più di più. C'è qualcosa di più di più di più di più di più. Voi, il Signore Leviticus Cornwall. Poi, riposare. Allora, vieni qui. Vieni qui. Vieni qui. Vieni qui. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vieni qui. Vieni. Vieni qui. Buongiorno. Fuorilegge tutta la vita, sì. Bravo. Guarda che siamo avanti a John, Matt, Charles e Shawn stuscono con noi, e credo che conosco! Sì, tutti stanno tornando. Noi, non si non è caldo, ma questo cuore sarà da lui più di più di un ucchio. Especialmente quando ci prendiamo questo treno, anche. Sì, credo che ci vediamo. Oh, davvero, ci vediamo. Sì, ci vediamo, ci vediamo. Oh, ovviamente ci vediamo, come gli altri. Ma ci vediamo un po' di loro, sicuramente che noi sempre vediamo dove sono, prima che vediamo dove siamo. Ci vediamo che ci vediamo un po' di Blackwater. Questo non si succede mai. Allora, in, ragazzi, facciamo un po' di grado. E segui Odriscoll e prendo il lazzo. Bello, bello. Aspetta, il lazzo, dammi il lazzo. E segui Odriscoll e prendo il lazzo. Bello, bello. Aspetta, il lazzo, dammi il lazzo. Ma lo acchiappiamo. Ma lo becchiamo a questo. Ma facciamo la salsicciotta. Sei tranquillo. Oh, no. È là. Cazzo, orca troia. Che cosa è successo? No, ma non mi perdere! Mi... Presto! Tu stai con me! Haici mi spazzato con qualcuno di altri! Non ti... chi sei, no, vabbè. Non ti ho scambiato per nessun altro. Sei tu lo stronzo, vieni. Chiunque tu sia, comunque... Oh, Dio, no! E ora il telefono si chiama. Qual è il tuo nome, ragazzi? Non lo so, non lo so, non lo so il tuo nome. È Ciaran. Ciaran che cosa? Duffy, Ciaran Duffy. Beh, non ti ho scambiato per te. Questo è un giorno davvero brutto per te, Ciaran Duffy. Ma dove ti prendi? Di un'unico che non ti ho scambiato. Cosa? Cosa ti ho scambiato per me? No, non vadovi ancora. No, non volevo fare questo. No. Volevo fare questo. Non ti preoccupare, non ti facciamo niente. Senti, prendiamo questo magro a un'altra parte, siamo freddi. Ho un sacco, mio amico. Vi sguardo, ragazzi. Ci necessità di sguardo? Scrivervi, ragazzi. Ci necessità di salvare? Ci servire. Ci servire. Ci servire. Ci siamo a sapere cosa che hai bisogno. Non ti credo! Un'Odriscoll, nel mio campo! Non è un'Odriscoll, signor! Non ti preoccupare, signor! Oh, che cosa dici, figlio! Certo, ragazzi. Non ti preoccupi, ci siamo freddi. Oh, ci sono sufficienti per questo. Ora? Devo cercare, se possiamo incontrare questo treno! Ok.